Iparei! Al numero 10 della Iparei di 1978 C'è Renato Zero con Triangolo Il Triangolo no, ma si, con Renato si Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il suo ruolo mi spieghi qual è Io volevo incontrarti da sola Semmai Mentre lui Lui chi è? Lui chi è? Cioè è difficile farlo con te Mollalo! In posizione numero 9 troviamo Patti Bravo e il suo pensiero stupendo che è il pensiero di tutti noi quando pensiamo a lei E tu E noi E lei Fra noi Vorrei Vorrei E lei Adesso sa che vorrei Le mani Le sue Il primo Poi Al numero 8 Uno dei più grandi riff di chitarra di una canzone pop Figli delle stelle Alan Sorrenti Vai! Non c'è tempo di fermare questa corsa senza fine Che ci sta portando via E il vento spegnerà Il fuoco che si accende Quando sono in te Quando tu sei me Noi siamo figli delle stelle Noi siamo figli delle stelle Figli della notte che ci gira intorno Noi siamo figli delle stelle Non ci fermeremo mai per niente a mondo Alla posizione numero 7 C'è un grande successo firmato Barry Gibb E Gris Dalla colonna sonora del film Vai! Dalla colonna sonora del film Siamo arrivati alla posizione numero 6 Ti avrò Adriano Celentano Adriano tutti ti vogliono E se dovrò votare via Tutto il resto lo farò Ma ti avrò Al quinto posto troviamo una canzone Il suo velluto Kate Bash Computer in Heights Il suo velluto Ed eccoci al quarto posto Delle Magnifiche Dieci del 1978 Tu, Umberto Tozzi Tu, che mi brucia sei tu E anche la mia marcia in più Ed un po' di follia Quanto basta perché tu Come lei non sei mia Se mi fai l'amore ti Canterò come se fossi una canzone Canterò E camminando sveglierò Chi sta sognando più di me Al mondo siamo io e te Stiamo salendo sul podio Al numero 3 troviamo Sotto il segno dei pesci Antonello Venditti Nota sotto il segno dei pesci Ed il rock passava l'alto Sulle nostre discussioni Diciotto anni sono pochi Per promettersi il futuro Ma tutto quel che voglio dicevo È solamente amore Ed unità per noi E meritiamo un'altra vita Violento e tenera solo Natta sotto il segno Natta sotto il segno dei pesci E al numero 2 Un grande classico di Battisti Mogol Una donna per amico Vai! Per la seconda settimana consecutiva Nei 45 giri Una donna per amico Lucio Battisti Può darsi che io non sappia cosa dico Scegliendote una donna per amico Ma il mio mestiere è vivere la vita Che sia di tutti i giorni o sconosciuta Ti amo forte, debole e compagna Che qualche volta impara e a volte insieme E al primo posto della Heat Parade 1978 Di Bee Gees con Stayin' Alive E al primo posto della Heat Parade E per oggi è tutto Ciao da Riccardo Rossi